Ciao a tutti, faccio le tagliatelle, questa è tagliatelle, hai visto che è bello? Ciao a tutti, faccio le tagliatelle, ora le picchia, ciao a tutti, stai facendo, ancora un po', adesso, ok, stai pervivendo, aspettate, oh oh, stai pervivendo, stai pervivendo, sono un passaggio per la mia montata, non ho, sai che ora? moca anche se sei a un cattolo, un cattolo, ah perché non ha? 起來 ho aiuto Papa, papa, papa Hello Can you say hello? Hello Hello How are you? Why are you so excited? You're such a kind of creature What do you want? You're so excited What do you want? You're so excited Why do you want? Grazie fia, ciao fia, grazie per comprare questo telefono grande, ciao fia, io di piace. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 0 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.